Qui nella nostra tassa abbiamo un gruppo di ragazzi Che fatta agli insegnanti come fossero pupazzi Ma di questa è buona e altrimenti la pagate Perché non piace far così, perciò non vi vincite Un giorno è sempre peggio con quei ragazzacci Che durante le lezioni ci disturbano Sono rocchi impertinenti, proprio dei maschiacci Ma cosa possiamo fare se non cambiano? Tronsana dal vento è più un po' tu Perché così non se ne può più Sappiamo che non ti arredi mai Che trovi e trovi che ce la fai Tronsana il tuo cuore palpita Ma la tua pazienza scarpita Con tutta la tua vitalità Tronsana sei proprio una piccola star Guardo gli occhi tu Nei quali poi si spezzano in me Puoi dirmi come tu vuoi Sei magica così come sei Se chiudo gli occhi penso a te E ciò vorrei sapere se pensi a me Perché sei tu la cosa più importante La più importante che tornerà a succedere Tronsana del vento è più un po' tu Con tutta la tua vitalità Tronsana sei proprio un pi vir a fondo La ma la 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 but no la 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 but no la 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 Come un pezzo siiii andavo se bacasse un colpo colpo basta Sbagliato ho sbagliato tantissimo come è possibile Allora ciao a tutti adesso facciamo una conclusione del video girando salutiamo tutti gli amici a casa che seguono il canale Se non lo seguite seguitelo se lo state già seguendo lo chiudiamo mettete mi piace al video se vi è piaciuto se il video non vi è piaciuto chiudete il browser internet senza fare nient'altro Scappate da casa uscite attenti alla strada però che se passa le macchine poi morite Seguitemi sui social network come facebook twitter che lo apriremo tra poco Poi youtube logicamente faremo apparire adesso vediamo se riesco girando qui in basso tutti i contatti Cosa che potrebbe non essere vera se non riusciamo a farli apparire quindi pazienza e al prossimo video dal Giappone Allora sta iniziando a diventare Sta iniziando a diventare come si dice Sto perdendo anche le parole Mi sta venendo da vomitare tantissimo Grazie a tutti